Il progetto Mensa a metro zero e zero rifiuti a Caggiano si conferma una felice intuizione che vede il comune tra le esperienze positive a livello nazionale puntare sul chilometro zero nel menu offerto alle scuole e portato avanti mediante un programma strutturato di azioni finalizzato alla promozione di stili di vita e consumi sostenibili, alla realizzazione della filiera corta nell'ambito del servizio Mensa scolastica e alla promozione dei prodotti locali. Funziona così i prodotti locali seguendo la stagionalità vengono consegnati dalle stesse famiglie dei bambini fruitori del servizio di Mensa scolastica e stato creato così negli anni un circolo virtuoso basato su una moderna formula di baratto che consente alle famiglie di scambiare i prodotti del proprio orto con le quote del servizio a proprio carico avendo così la certezza della qualità di ciò che i propri bambini mangeranno a scuola. Ad agosto scorso i genitori hanno consegnato il pomodoro di produzione propria per la trasformazione in passata da parte di un laboratorio locale autorizzato. Ora tocca all'olio extravergine d'oliva da consegnare ai frantui che hanno aderito all'iniziativa. L'obiettivo principale assicurano dall'amministrazione è sempre quello di fornire agli studenti alimenti di migliore qualità ed educarli ad una sana e genuina alimentazione contenendo, attese le condizioni di crisi economica che colpiscono le famiglie, il costo del servizio del ticket mensa.